Bentornati ragazzi in questo nuovissimo video horror Oggi da come avete notato dalla Song siamo in un gioco davvero ma davvero spaventoso Dico bene amico Witcher? E tu amico Loro Random cosa ne pensa lei? Penso che sarà molto bello Io direi di entrare subito in giocatori 3 E 3, 2, 1, entriamo Allora Il gioco dice che Allora il gioco narra Noi siamo in una scuola Da come leggete dal titolo del gioco si chiama School In questa scuola stanno accadendo eventi paranormali Questo avvertimento non ci piace Verso 2 ogni notte nella scuola più grande d'America accadono cose strane come vi volevo dire E un gruppo di amici dovranno risolvere questo misterio Ma quando entrano nella scuola si rendono conto che la situazione è più pericolosa Ed è meglio fuggire Ma vi stai un po' facendo ragazzo molto Ma vi stai facendo? No nel senso una trama di un episodio di un cartone molto bello con un cane parlato Devo trovare la stanza del manager E chissà dov'è questa è la classe Ma non si può scritturare No 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 ziti ziti metti bene No 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 L'avete visto pure voi? Sì quello zucurro che esce dalla parte da lì L'ho visto Carate carate guarda qua questa è la nostra classe Aspetta levati Sì è molto oscura Guarda il mio banco Dove? In fondo Ah no Ziti 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 Vabbè No la song non ci serve più la song horror Soltanto per la intro Però questa cosa è molto molto creepy Class No Oh hai fatto bene No Sì sì Cos'è? Che? Cos'è? Ma no Mi conosce Conosce il mio posto Sa chi sono Sa perché sono qui Ok Troviamo la stanza del manager e ci stiamo zitti Venite Non voglio andare da su Non voglio andare da su Vabbè Allora direi che Questo gioco è fun Natina aspettate Aspettate Ho una torcia Noia se paga No se non si può Non si può Cos'è sta song No no Una figura nera Non in quel senso Sì sì però Sto collegando la tastiera ragazzi Zitti tutti Sì Ora che collego la tastiera Possiamo giocare sul serio Allora da dove dobbiamo andare? Torcia si paga Ecco Dal manager Non so se è la stessa cosa del preside Vabbè È da Zugurrao? Non so di no Sì E ci ha richiamato Ma cosa avete combinato? C'era il nostro amico Witcher Te l'avevo detto Non ti dovevi mettere questa maschera Allora il preside ci cerca Ma perché dobbiamo passare Dove sono venuti? Mi sono scordato già Ma perché Vediamo qui proprio dal giorno di Halloween Che c'è ancora il costume Sala ginnastica Buongiorno prof C'è il Ferrara Salutatelo Salutate almeno il Ferrara Non si può entrare nei cosi no? No Dobbiamo trovare la stanza del manager Che è sto coso? Cosa è quello? Cosa è il nome di questo? Stanza del manager è quello qui Trovata Ecco è tutto Per aggiungere la mia Serviva un nostro amico Che sapeva per lo più Ah è vero Ci sarà la chiave da qualche parte Quindi dobbiamo trovarla nelle classi credo Eh sì Chi la trova vince un soggiorno gratis Nel Karate Club Infatti sì dobbiamo trovarla nelle classi No io ho sentito dire che se la troviamo ci danno un viaggio gratis ai Caraibi Ah no e vincete un soggiorno al Karate Club Bello Eh quindi 8 video al giorno 27 ore di... Quindi... Allora ma non possiamo girare 4 classi Intanto mi guardo dietro le spalle che non voglio avere una brutta soggiorna Trovate lo trovate ho trovato la chiave Portala Andiamo ad aprire che la song si sta intensificando E qua c'è un altro... c'è un altro biglietto Vieni Witcher vieni Witcher corri 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 Ecco là Ecco là Ok però potevamo chiedere al nostro amico... A un amico nostro di dirci dov'era la stanza C'è il bidello della scuola quello che sta anche alle 3 di notte No a Karate Club Potevamo chiedere a lui dov'era la classe E la classe B eccola L'hai trovata? Si però no ma avete lasciato da solo avete sdravato Ehh vabbè Dovete girare a destra ecco Ma perché la chiave non ce l'hai? No Ce l'hai... ce la potendo solo uno Ma in realtà ha solo uno pensavo era un po' per tutti No Aperto ok Ehm... si ma cos'è il... La chiave della palestra la prendo io la prendo io E' tutto un giro ma ecco ecco No la matematica no Cancellala No la che frullo Ma abbiamo nominato tutti quanti di teacher No non c'è inizio ma allora Ah? E' molto spaventoso direi però Eh però l'hai letta l'avvertenza iniziale ci potrebbero essere dei jumpscare No ma che... Vabbè è capitato già più di una volta di... Eccola no no una stanza nera entra tu E' tutto nero Entra tu Vado a arrivare a ASE Si è entrato lui ci ha teletrasportato a tutti ASE ASE Ok non più Vabbè No aspetta No Tornate indietro Torna indietro Torna indietro Torna indietro Ok? Ho capito Un abilito Eh E' quella lì è la zona in cui il mostro non ci fa gli jumpscare No 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 Entrate nella safe zone Così? Noo Ok è una safe industry Nooo Si Allora Allora Ehm Andiamo qui Eh... Richard lo sai che dovrai provare jumpscare? Pure io Tengo la grand'angolo Witcher dietro 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 corri corri No è dietro di me ok Super Ma se io Attizzalo Ma se io la stalkerò che succede Ti incula male No io devo andare in mezzo Vuoi dire Ma me l'ha messo lì eh No 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 Non hai capito niente Io ho finito qui Finito Eh si Anzi no 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 Si è vagato Dov'è Dove siete voglio mi venite a prendere la safe zone Eh bisogno di trovare una chiave Si mi venite a prendere la safe zone La respawni Eh si ho vagato il gioco non lo so Dimmi dov'è Vabbè ecco vieni qua L'ho trovata io così Allora che ho tornato indietro Tornati un attimo Eccoci qui Devi fare respawn E quella la ti fa respawnare Ma gratis E' gratis Eh no No ho fatto ritorno alla lobby No Pure tu Torna pure tu Rifacciamo tutto Eh A sto punto muoio Eh si Rifacciamo tutto quanto Vabbè Non posso manco morire a comando Quindi devo rientrare Vabbè Vabbè Non posso manco morire a comando